Partiamo dal fatto che noi non siamo in questo momento in un territorio soggetto all'emergenza, cioè decretata, per cui in questo momento qua ci possiamo muovere soltanto con gli strumenti ordinari. Per cui i cittadini, a parte che crepa strutturale, è un po' pesante da definire, strutturale è quando il muro è lesionato. La maggior parte delle crepe che si intravedono adesso sono degli intonici, poi se uno ha un sentore che quella che vede lui è una crepa perché magari passa da parte a parte del muro, una crepa che o ha timore, che di compromesso bisogna che in qualche maniera, in maniera autonoma, o tramite qualche professionista, o se non ha nessuno, proprio in estrema razio, chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per verificare l'agibilità della casa. E quindi di conseguenza anche la gravità della situazione. La gravità della situazione. Questo adesso è da ponderare un pochino perché in questo momento qua i vigili del fuoco sicuramente saranno sovraccarichi di chiamate, per cui se uno riesce a capire che la crepa è soltanto il movimento che c'è stato del muro che ha rovinato l'intonaco e basta, e via di seguito, non è... se però dopo ha il dubbio ce l'ha, in questo momento comunque non sono previste le verifiche che normalmente vengono attivate nelle zone emergenziali, proprio per stabilire se la casa è agibile o abitabile, non è abitabile, via di seguito le classificano in base alla gravità del danno e fino a arrivare a dire che questa è da demolire e rifarla. Da noi ancora le squadre dei verificatori sono tutte impegnate nelle zone del cratere, sono tutte impegnate.